Ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Free per questa nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Apriamo con un servizio che arriva da Campo San Piero e parliamo di videosorveglianza. C'è un nuovo piano per quanto riguarda questa attività. La Federazione dei Comuni del Campo San Pierese questa volta non può lasciarseli scappare. Una pioggia di milioni sono previste per le nuove norme sui dispositivi automatici a distanza e la videosorveglianza. Il Ministero degli Interni ha stanziato con un recente decreto 7 milioni per quest'anno, 15 milioni nel 2018 e altri 15 per il 2019. La Federazione parteciperà al bando per l'assegnazione dei contributi che dovrebbe uscire entro il prossimo 21 luglio. E' tuttora aperta la ferita della rinuncia di 16 milioni a fondo perduto dall'Unione Europea per non aver partecipato. Per dissidi interni agli 11 sindaci della Federazione ha un bando praticamente costruito ad hoc negli anni dal direttore generale Luciano Gallo e ceduto senza colpa per ira ai comuni della marca trevigiana. La novità della nuova legge prevede anche la possibilità di presentare dei progetti per la messa in opera delle telecamere a carico di privati con sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e collegati automaticamente con le forze dell'ordine e la vigilanza privata. In altre parole, una filiale di una banca o una dita in zona industriale possono installare il sistema di videosorveglianza con i fondi del Ministero alla condizione indispensabile di essere collegata con i carabinieri e i vigilantes privati. La situazione delle telecamere nel campo sanpierese è a dir poco kafkiana, un paradosso che vede le 44 telecamere dislocate nel territorio inutilizzate. La giunta della federazione composta da primi cittadini del comprensorio sta ancora valutando un progetto elaborato dalla società partecipata ASI per aggiornare il sistema. Si dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, passare alla fibra ma da più di un anno a questa parte tutto è fermo. Funzionano solo 11 telecamere mobili, ovvero apparecchi che registrano solo a livello locale e si possono scaricare con un semplice wifi. Da mesi la federazione annuncia di voler aderire a un progetto regionale di banda ultralarga. Sono già stati stipulati degli accordi con la dita ASCO TLC per utilizzare i cavi dotti e passare la fibra raggiungendo le zone industriali di Campo San Piero, Loreggia e San Giorgio delle Pertiche. Troppo pochi per altri sindaci che hanno pensato bene di fare da soli, come il primo cittadino di San Giustina in Colle, Paolo Gallo, il quale, dopo atti vandalici e ripetuti furti, ha deciso di provvedere per conto proprio nella installazione delle telecamere per la videosorveglianza. Aumentano impolesi nei pazienti che necessitano di cure palliative che seguono nel 2017 in base all'andamento registrato nei primi quattro mesi. È presumibile che i casi saranno il triplo di quelli avuti lo scorso anno, afferma l'oncologo Antonio Bonomi, direttore del centro di cure palliative nel distretto 1 di Rovico. I pazienti che hanno fatto richiesta sono 110, mentre nel distretto 2 di Adria sono 80. Nel 2016 avevano chiuso con 300 utenti, mentre in soli quattro mesi siamo già arrivati quasi a quota 200. Adesso andiamo a Padova, finisce in tribunale il caso del presunto scippo di Exo Bici da parte della Fiera di Verona. Sul banco degli imputati l'ex direttore generale Paolo Coin, l'ex addetta stampa e due ex dipendenti di Padova Fiere, tutti passati alla concorrenza e impegnati nell'organizzazione della manifestazione Cash Mobile Bike Show, gemella dell'evento padovano, nonché il direttore generale di Verona Fiere. I cinque sono accusati a vario titolo di accesso abusivo al sistema informatico di Padova Fiere e rivelazioni di segreto professionale. In pratica di avere rivelato agli organizzatori del Kermes concorrente tutto il know-how acquisito negli anni di Expo Bici. L'udienza è fissata per il prossimo 25 settembre. La citazione diretta a giudizio firmata dal pubblico ministero della distrettuale Francesca Krupi arriva a conclusione di una inchiesta avviata dopo la denuncia, presentata a fine 2014 appunto da Padova Fiere. L'ente si è costituita parte civile che sin da subito aveva parlato di Scippo, accusando il proprio ex amministratore delegato di aver architettato il lancio di una manifestazione concorrente a Verona a partire già da maggio 2014, cinque mesi prima del licenziamento per motivi disciplinari in stretto contatto con alcune figure dirigenziali di Verona Fiere. Adesso andiamo a Badia Polesine. Giro di vite sul Movida. Esercenti pagano per schiamazzi dei clienti. Sentiamo. Il sindaco Gastone Fantato lo aveva anticipato solo un paio di giorni fa e ora in realtà la nuova ordinanza per la tutela della quiete pubblica è il del decoro urbano. Un giro di vite contro la Movida Movellesta dopo le ultime recenti proteste del sindaco, ma anche un necessario aggiornamento rispetto al vecchio testo risalente a circa 17 anni fa. I titolari degli esercizi della Movida sono stati maggiormente responsabilizzati. Nel provvedimento firmato dal comandante della polizia locale Natale Dallagà si fa una precisa richiamo al rispetto al decoro urbano. I conduttori dell'attività, scrive Dallagà, dovranno porre in essere quanto necessario per prevenire e far cessare comportamenti e schiamazzi degli avventori che possono arrecare disturbo o molestia alle occupazioni e al riposo delle persone. Dovranno inoltre assicurare il decoro e la pulizia dell'area. Al comune si legge inoltre nella premessa dell'ordinanza sono attribuite competenze in materia di rilevazione nonché prevenzione delle emissioni sonore e la facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori tali da arrecare inconvenienti e disturbi a riposo. Per l'attività al chiuso, la diffusione della musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita fino alla mezzanotte, salvo che il locale non sia adeguatamente sonorizzato. Per l'attività all'aperto, l'effettuazione di concerti, piccoli intrattenimenti e manifestazioni a carattere temporaneo è consentita per una massima di tre ore, compresa tra la fascia 20 e 24. Sono previste sanzioni amministrative, ma il testo mette ulteriormente in guardia. Da otto giorni il campanile della chiesa di San Michele Arcangelo di Villanova del Chiebbo è muto. Il temporale della settimana scorsa ha messo capò l'impianto fonico delle campane e da quel giorno il loro caratteristico suono è scomparso. Nemmeno un ritocco neanche per le ore, ancora meno per l'annuncio delle funzioni religiose. Una cinquantina di anni fa un altro fulmine aveva tranciato la punta del campanile che da allora non ha più la sua vetta staiata verso il cielo. Alle messe di domenica scorsa il parroco Don Andrea Lovato ha spiegato questo fatto, chiedendo l'aiuto economico dei fedeli per la riparazione dell'impianto. Sarebbe anche l'occasione buona per ripristinare il ciclo completo delle ore, interrotto una quindicina di anni fa nelle ore notturne. E adesso andiamo a dare a stop ai furbetti del sociale. Vediamo di cosa si tratta. Tempi sempre più duri per i furbetti del sociale. Stop alle largizioni a pioggia. Il cerchio si sta stringendo attorno a chi si dichiara bisognoso. Ora dovrà dimostrare di esserlo veramente. L'aggiunta di Palazzo Tassoni su proposta dall'assessore Patrizia Osti ha approvato il nuovo regolamento comunale ISAE aggiornando i criteri per la concessione di interventi economici ai cittadini in condizioni di bisogno. Abbiamo notato che in base alle richieste di intervento pervenute nel 2016 si evidenziava il perdurare della crisi finanziaria, ha spiegato Osti, e le sue pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo e sociale stanno determinando condizioni ormai stabilizzate di precarietà lavorativa ed economica. Poiché l'impoverimento di alcune facce di popolazione non risulta più vincolato a un momento critico e circoscritto nel tempo, ma rappresenta un elemento costante, abbiamo ravvisato l'opportunità in considerazione dei bisogni sopra rilevati di rideterminare i criteri per gli interventi. Da una parte l'aggiunta ha confermato la soglia ISAE di accesso non superiore a 5.825 euro per l'intervento di sostegno al reddito del contributo minimo vitale con importo massimo mensile erogabile dell'anno non superiore all'ISAE di accesso meno ISAE del richiedente diviso 12 mesi. Stesso calcolo per il contributo economico ordinario con soglia ISAE di accesso non superiore a 6.525 e ISAE di accesso non superiore a 8.107 euro. Invece per il contributo economico straordinario come spese impreviste, eventi luttuosi, ripristino delle utenze essenziali e altre voci per un importo massimo erogabile non superiore a 2.000 euro. Per gli interventi di assistenza abitativa la soglia ISAE di accesso non dovrà essere superiore a 3.000 euro con riferimento all'intervento emergenziale di avvio di nuova locazione con un contributo massimo erogabile di 1.500 euro. L'intervento di prevenzione delle situazioni di morosità prevede infine un importo massimo erogabile non superiore a 3.960 euro annui. Una comunità di persone con il cognome italiano Miotti che vive in Argentina ma con origini di San Giorgio in Bosco è stata scoperta grazie al noto social network Facebook. I Miotti dell'Argentina, definiamoli così, vivono a Cordoba. Capostipide Fellino Miotti che negli anni venti aveva 10 anni e migrò assieme ai genitori da San Giorgio in Bosco nella grande terra oltreoceano cercavano fortuna a migliori condizioni di vita. Nel tempo si sono persi i contatti con il paese d'origine, le ristrettezze economiche hanno reso impossibili viaggi e comunicazioni. Il tempo ha fatto il resto ma le nuove tecnologie non sono poi così da demonizzare. Almeno in questo caso alcuni mesi fa nel profilo ufficiale del comune di San Giorgio in Bosco è giunto infatti un messaggio che chiedeva informazioni sull'origine della famiglia Miotti. A scrivere era Gian Giusei Miotti, figlio di Fellino. Il caso vuole che nella giunta ci sia un Miotti, l'assessore all'ambiente Fabio, di fatto lontano parente. Da quel momento i contatti si intensificavano. Ho potuto apprendere varie informazioni sulla loro storia, qui da noi di fatto ormai non più nota, spiega l'assessore. Mi hanno anche detto che non hanno la cittadinanza italiana, così mi sono messo in contatto con il Consolato italiano e l'Argentina per capire di quali documenti necessarivano per la richiesta. Una volta ottenuti glielo ho inviati assieme al libro che il comune di San Giorgio in Bosco ha prodotto anni fa sulla storia dell'immigrazione affinché potessero da una parte conoscere meglio le loro origini, dall'altra capire come la nostra comunità si aggrada a tutti coloro che, come tutti i quattro i miei nonni, nei periodi più bui della nostra storia, più recente, hanno avuto il coraggio di andare all'estero per risollevare le sorti della nostra terra. Ora, conclude Miotti, potranno chiedere la cittadinanza italiana e so che lo faranno presto. Andiamo adesso a Villa Dose. Le associazioni Essere Animali e LAV hanno presentato ricorso a Tar del Veneto contro l'allevamento di visone di Villa Dose. Le associazioni contestano diverse violazioni di disposizione a tutela degli interessi igienico-sanitari, agronomici e urbanistici, chiedendo l'annullamento di tutti i provvedimenti del comune di Villa Dose che hanno consentito l'allevamento di iniziare l'attività. Il ricorso mira anche alla revisione della delibera dell'Aggiunta regionale e del decreto del dirigente che consentono agli allevamenti di visone la possibilità di essere considerati strutture agricole produttive invece che zootecniche intensive. E adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo con il meteo. Previsioni dunque per il 28 maggio 2017. L'anticiclone Hannibal sarà ancora il protagonista assoluto di questa giornata portando tanto sole da nord a sud. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord al mattino qualche nube con locale copertura del cielo sul Piemonte, sereno al nord-est. Nel pomeriggio isolati piovaschi sui rilievi alpini occidentali, cielo che sarà al massimo velato altrove. Spostiamoci al centro. Splendida giornata soleggiata, tanto sole e cielo del tutto sereno sulle regioni peninsulari e anche sulla Sardegna. Raggiungiamo infine il sud. Poche novità. La situazione sarà quasi del tutto immutata. Cielo completamente sereno e limpido ovunque al mattino, al massimo poco nuvoloso nel pomeriggio. I venti saranno deboli o localmente moderati da direzioni variabili ma comunque settentrionali su tutti i bacini. Temperature. Valori minimi compresi tra i 9 e i 18 gradi su tutte le nostre regioni. Caldo durante il giorno. Prevediamo infatti punte di 32 gradi al nord, di 30 gradi al centro e fino a 27 gradi al sud. Volete rimanere sempre aggiornati sulle condizioni meteo e sulle nostre news? Cliccate mi piace sulla pagina facebook di ilmeteo.it. Arrivederci. Gentili telespettatori, finisce qui l'edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguo di serata con i programmi della nostra rete Prima Free.